Stamattina c'è qualche dettaglio in più sul rapimento di Silvia Romano, ma nient'altro. La polizia della contea di Chilifi, la zona del Kenya dove la volontaria milanese è stata rapita martedì sera, ha diffuso un comunicato per far sapere che a portarla via sono stati tre uomini armati che hanno sparato, ferendo quattro ragazzi e una donna. Nelle ultime ore sono state arrestate 14 persone, che però non sono direttamente coinvolte. Forse hanno qualche legame con i sequestratori e adesso, ma non ci sono conferme ufficiali, sarebbero sotto interrogatorio da parte della polizia locale, che porta avanti le indagini con l'aiuto dell'esercito e dell'intelligence. E dei nostri servizi segreti, scrive il Corriere della Sera, il che ci fa capire come la vicenda sia delicata e complicata. La pista privilegiata è quella della criminalità locale, banditi che vogliono soldi e sanno che un occidentale è un ostaggio prezioso, ma finora non c'è nessuna richiesta di riscatto. Ancora non si può escludere del tutto la pista più pericolosa, quella di un commando di Al-Shabaab, i guerriglieri islamici, che spesso dalla Somalia sconfinano in Kenya per fare attentati. Anche perché la foresta nei dintorni di Shakama, il villaggio a 80 chilometri da Malindi dove Silvia lavora per l'Onlus Africa Milele, è un rifugio anche per loro. D'altronde i testimoni del fatto hanno raccontato versioni contrastanti. A Malindi, dove da decenni c'è una numerosa comunità italiana che vive di turismo, alcuni hanno organizzato per oggi una conferenza stampa. protestano contro il sensazionalismo che si farebbe sulla vicenda e che danneggerebbe il Kenya e il settore turistico. Può essere, ma adesso ciò che conta è che Silvia stia bene e venga liberata.